Siamo con Danilo Ciotti, responsabile Trasporti, logistica e piattaforma di Cogesa S.p.A. Dove vanno buttati guanti e mascherine? Allora, stiamo riscontrando ogni giorno una massiccia presenza di mascherine e guanti all'interno dei rifiuti plastica e carta che gli utenti conferiscono attraverso il nostro servizio di raccolta nella nostra piattaforma di selezione. Volevo ricordare a tutti che mascherine e guanti, così come i fazzolettini per la pulizia del naso, vanno gettati nel secco residuo. Questo per la sicurezza di tutti e anche dei nostri operatori che selezionano manualmente questi rifiuti.